Mi piacerebbe andarci. E quanto tempo avete detto che vi ci vuole per arrivarci? Due o tre giorni. Due o tre giorni, non di più. Certo che mi piacerebbe tanto venirci. Sì? Ce l'hai un casco? Oh, se ce l'ho il casco. È una bellezza. Oh, se ce l'ho il casco.